Grazie Presidente, dunque volevo innanzitutto esprimere il mio compiacimento per l'ottenimento di questo risultato, di rappresentazione di questa delibera che il Movimento 5 Stelle voterà sicuramente a favore, perché è un'importante opera che porta a ripristinare un edificio storico, destinato già a museo, in più si prevede la musealizzazione dell'acquedotto vergine che sta al di sotto del complesso e che verrà reso pubblico e quindi visitabile e fruibile dalla cittadinanza. Volevo rispondere anche al consigliere De Priamo, il quale si preoccupa degli oneri dovuti per i standard dei parcheggi che sono stati monetizzati per il 50%, mentre dall'altra parte viene fatta una convenzione con un garage nei pressi e quindi in questo modo viene recuperato lo standard dei parcheggi. Il discorso poi della mobilità che noi politicamente vorremmo che le auto private non entrassero nel centro storico, questo è un altro discorso che esula da quelli che sono i calcoli degli standard urbanistici, della monetizzazione dei parcheggi che è prevista dalle leggi vigenti, dai regolamenti comunali vigenti e dal piano regolatore. Quindi il nostro voto sarà assolutamente favorevole e fieri di questa nuova opera del Comune di Roma. Grazie.